Era entrato negativo al reparto di oncologia del Moscati, l'82enne di San Potito Ultra morto per coronavirus nella notte alla città ospedaliera di Avellino. Fatale stato il contagio subito dopo il ricovero nell'unità operativa di oncologia medica. L'uomo era arrivato al pronto soccorso di Contrada Moretta lo scorso 24 settembre. Il primo tampone era risultato negativo ma quando il 6 ottobre lo aveva ripetuto nell'ambito dei controlli sui degenti di oncologia l'esito era stato positivo e lui era stato trasferito al covid hospital. Sono 37 attualmente i degenti nella palazzina Alpi del Moscati. A disposizione restano 12 posti letto ma l'unità di crisi vuole aumentare i posti di degenza. Attualmente sono 49 quelli messi a disposizione al Moscati ma ne dovranno essere messi a disposizione anche altri 53 per il piano regionale. I sindaci della Valle dell'Irno però dicono no alla riconversione dell'Andolfi a ospedale covid mentre a Sant'Angelo dei Lombardi l'ASL finisce sotto accusa per la mancata attivazione della terapia intensiva dell'ospedale Criscuoli. Intanto risalgono i contagi nirpini a fronte dei 730 tamponi analizzati. Sono risultate positive altre 42 persone. Contagio che non si arresta a Cervinara dove si contano altri 9 infetti. 6 a Solofra, 5 ad Avellino, 3 a Grotta Minarda, 2 a Montella e ancora un caso ad Ariano Irpino, Bagnoli, Forino, Gesualdo, Lioni, Mercogliano e Serino.